e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora oggi vediamo quali giochi usciranno nel mese di agosto che è notoriamente morto perché siamo tutti insomma in vacanza ma la città lago quindi vabbè vi dirò quali tra le varie uscite mi intrigano di più anche e ovviamente anche gli altri giochi così che abbiate una lista ovviamente completa pc ps5 xbox series xs e nintendo switch partiamo con sì con vabbè sì con black might v long il 20 di agosto che è un souls like dall'ambientazione particolarmente interessante ispirato al classico cinese il viaggio in occidente che non giocherò nemmeno sotto tortura ma so che tanti di voi questi giochi gli piacciono molto forse siete masodisti io sinceramente no però andiamo avanti dustborn stesso giorno che è in uscita appunto lo stesso giorno sullo sfondo di uno scenario post apocalittico un'america in macerie fra le cui strade si muovono banditi spiedati motociclisti e mostri mutanti pax una ragazza dotata di un potere straordinario la capacità di utilizzare le parole per persuadere intimidire e ingannare e persino guarire il prossimo pax dovrà attraversare ciò che resta degli stati uniti a bordo di un vecchio autobus guidato da un robot quest'altro è in arrivo il 15 di agosto che è una bridge of spirits che conoscete tutti a tre anni dal debutto su pc e su playstation approda ad agosto anche su xbox ed è veramente un giocone pensate che appunto devo finirlo e ve lo consiglio caldamente altro titolo controverso in arrivo il 23 di agosto è concord è la nuova esclusiva playstation sviluppata da firework studios hero allora vi stavo dicendo la nuova esclusiva playstation sviluppata da firework studios è un hero shooter nel nel tentativo insomma sony di colmare il vuoto determinato dalla ben nota crisi di overwatch auguri perché overwatch diciamo non è facile da come dire non facile fare un gioco che possa insomma surcrassare overwatch in qualche modo tuttavia sembra una produzione solida quella di sony quindi vedremo cosa ha saputo fare e ai piedi erroni da stiro a carbonella di piombo fuso quest'altro è vision of mana in uscita su pc ps4 playstation 5 e xbox series xs il 29 di agosto un capitolo inedito e particolarmente promettente della celebre sagra si la sagra saga grpg caratterizzato da un'atmosfera febbesca e da un comparto artistico davvero suggestivo si percepisce un lavoro immenso e grande impegno in questo prodotto progetto che non rinnega in alcun modo i capitoli classici della serie e anzi ne riprende diversi aspetti in maniera fedele andando a modernizzare le meccaniche e la struttura infine star wars outlaws in uscita sempre su pc ps5 xbox series xs il 30 di agosto questo lo conosciamo tutti ed è forse uno dei giochi più attesi di agosto una nuova ip di ubisoft ci sta anche un video dedicato sul canale quindi andatelo a recuperare a metà fra gli eventi dell'impero colpisce ancora e il ritorno dello jedi nell'abito di una storia inedita che i vas ok questi sono quelli che hanno attirato la mia attenzione per competenza di elenco anche gli altri come vi ho detto all'inizio abbiamo thank godness you are here che cazzo di nome in uscita sempre su pc ps4 ps5 nintendo switch il primo di agosto stream world highest 2 in uscita su pc ps4 xbox one ps5 series xs da tutte le parti e switch lotto di agosto e mio pare quello che parlava il corsivo continuiamo con la prossima parola è mio no scherzo vabbè è mio l'uomo che sorride fami con detective club in uscita su nintendo switch il 29 di agosto una battutaccia quella che ho fatto gundam breaker 4 in uscita gundam e per finire gundam breaker 4 in uscita su pc ps4 ps5 nintendo switch il 29 di agosto allora ragazzi questi sono tutti quelli che insomma tutti quei giochi che usciranno ad agosto il video finisce qui fateci sapere cosa ne pensate sotto nei commenti iscrivetevi al canale lasciate un bel like o dislike commentate condividete attivate la campanella di notifiche non perdetevi gli altri video e supportate il canale vi ricordo che saremo live anche su tiktok per sapere quando saremo live guardate le nostre storie instagram e noi ci vediamo alla prossima ciao a tutti ahhh che bella visciata che bella ahhh che bella così che and- ahhh che bella